La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suorra Cecilia Basarocco, un grave atto di responsabilità umana e politica della Regione. Non usa mezzi termini il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa, che da ieri ha ripreso il presidio ad oltranza all'ingresso della struttura ospedaliera. Una protesta al fine di salvaguardare e tutelare il pronto soccorso per dire no al piano di riordino della rete ospedaliera della Regione. Una protesta pacifica al momento. La presa in giro non sta bene, non va bene a nessuno. Noi avevamo avuto da parte dell'assessore alcune garanzie, vengono meno, ci siamo fermati, però se c'è l'esigenza di continuare adesso andremo avanti ad oltranza. Poi vediamo fino a che punto è pacifico, visto che c'è, mi pare, il frutto di un'insolazione di fine estate, perché qualcuno finita l'estate ha intenzione di stravolgere la sanità in Sicilia. Il problema non è Niscemi, il problema è la sanità siciliana e non mi voglio ergere ad essere il paladino della salute e della sanità in Sicilia. Però, Dio mio, di cosa state parlando? La salute non va comparata con i numeri, la salute va comparata con tutt'altre cose. La salute non è un bene negoziabile, la salute è quello che oggi contraddistingue da una civiltà che è evoluta e una civiltà che va verso l'involuzione. Se noi dovremmo andare verso l'involuzione, come ha deciso il governo, la regione, che in questo momento amministra, ha sbagliato strada. Qua si vuole ritornare indietro di migliaia di anni, vogliono riportare alle grosse stazioni, non le voglio chiamare più nemmeno città, né aree metropolitane, dove tutto è consentito, dove ci stanno i servizi. Mentre da noi iniziamo dal giudice di pace, poi iniziamo dall'ufficio del lavoro, poi si va avanti con il reparto di ostetricia, di medicina, di chirurgia, andiamo avanti con tutto. Adesso ci volete togliere anche il pronto soccorso. Vedete, questo non è possibile, non è praticabile. Toglietelo dalla testa, andate a curarvi se avete qualche problema, perché il problema sarà affrontato in modo diverso questa volta. Vare di problemi qui a Niscemini a tanti, dal Moos all'ospedale, alle strade interrotte, alla mancanza d'acqua? Sì, i problemi ci stanno, vanno affrontati. Quando si parla di un problema di viabilità si può anche intervenire, ci stanno i tempi, i modi. Quando si parla di Moos fino ad ora ci siamo nuovamente ricostituiti, perso CGA, la Cassazione. Possiamo andare avanti con le querelle, ma sulla vita delle persone penso che tempo da perdere non ce n'è. Noi vogliamo semplicemente essere assicurati da parte del governo regionale che quello che si è detto sia quasi una bufala oppure un intervento fuori luogo. A questo mi rivolgo a chi in questo momento amministra, chi in questo momento si fa garante della nostra Costituzione, si fa garante della cittadinanza italiana, si fa garante di quello che deve essere la struttura Italia. Se questo è il modo per iniziare, iniziamo dalle periferie, che Dio ci guardi di quello che succederà nelle centralità.